Oggi che la piazza è aperta possiamo tornare, è un piacere. Il Papa che ritorna a affacciarsi per i fedeli, secondo me, per chi è credente, è un'emozione. Lo hanno atteso in piazza mantenendo le distanze dopo i controlli di polizia. Papa Francesco è tornato ad affacciarsi dalla finestra del Palazzo Apostolico per il Reggina Celi e ha salutato i fedeli dopo quasi tre mesi di collegamenti streaming con San Pietro, inaccessibile a causa della pandemia. Diciamo che è una voce di speranza, soprattutto in questo momento. Serve in questo momento la sua presenza. Francesco ha chiesto a tutti di pregare in silenzio e ricordare le vittime del coronavirus che lavoravano in prima linea, che hanno dato la vita per sostenere gli ammalati, dai medici agli infermieri, fino ai volontari. E poi ha ribadito la necessità di curare chi soffre. Curare le persone, non risparmiare per l'economia. Curare le persone che sono più importanti dell'economia. In tanti hanno seguito la preghiera mariana dai maxischermi in piazza. Adesso ci sentiamo ancora più uniti a Francesco, dicono tanti fedeli, ma anche durante l'emergenza il Papa non ci ha fatto mancare la sua vicinanza. In televisione tutti i giorni lui appariva, diceva messa a Santa Marta, quindi lo seguivamo in ogni caso.